Continua lo stato di agitazione dei lavoratori e della nostra famiglia delle strutture di Brindisi, Ostuni e Lecce, a seguito del quale si è tenuta l'assemblea indetta dalle sigle sindacali presso la direzione generale dell'ASL Brindisi in via Napoli. Il direttore generale dell'ASL insieme alla direzione amministrativa e sanitaria hanno voluto ribadire l'importanza di queste strutture, fiore all'occhiello per il territorio, vista la grande professionalità delle persone che ci lavorano e che danno una importante risposta sociale. L'ASL di Brindisi si è impegnato a portare all'attenzione la questione in tutte le sedi per una platea che ha a tutti gli effetti un valore pubblico e che non può avere un contratto che non risponde alla reale professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori convolti. Dello stesso avviso è Mauro Vizzino, consigliere regionale e presidente della terza commissione sanità regione che condivide la necessità di superare questa vicenda con la definizione e applicazione del contratto sanità private per questo, in vista della definitiva firma delle preintese delle strutture ex articolo 26, ha preso in carico la richiesta delle segreterie sindacali per riuscire ad avere un'audizione in cui si chiederà la presenza dell'assessore, del capo del dipartimento, del direttore generale dell'ASL Brindisi, della direzione della nostra famiglia e il definitivo impegno pena la perdita dell'accreditamento. Considerata la lunga attesa per la definizione del riconoscimento del contratto della sanità privata, i sindacati ritengono non più rimandabile la piena valorizzazione del personale interessato attraverso il riconoscimento contrattuale.